grazie adesso ci mette lo schermo grigio che staccia se lo dice ho detto tu immagino senta qui tutto d'ammazzo dai io lo devo fare ridare mi sta a ridere mica c'è la faccia sua dai dai Si è arrivato Un sbaglierino sempre Intanto ho dato pure una botta al microfono C'ho un libretto di Spider-Man Libretto con tutte le cose dentro Cose strane Comunque questo qua c'è scritto Attenzione spoiler quindi non dovevamo aprire quello Io comunque non ho visto, ho fatto vedere sulle telecamere Quindi è colpa vostra se l'avete visto Questa è l'edizione speciale del gioco Il steelbook Non c'è niente Davanti c'è sta ragno E apriamo pure questa Questa qui Il gioco dentro Con questo non serve a niente Il disco Questo è un cartolino dentro Non serve a niente Figo L'immagine di Spider-Man Non so quanto si potrà vedere però Questa qua Che ne pensi? Tutto molto bello E adesso? Adesso andiamo a aprire la play Ok questa è la play Non so se si vede ma È gigante Troppo gigante Vabbè vado a levare la scatola questa qua Che dentro è tutta bianca E poi iniziamo Eccoci qui Stiamo per tirar fuori la play Dammi la mano Qua c'è un po' di spoiler Già si vede un po' la play Però apriamo dopo Solita cavetteria Sony Il pezzo forte Attenzione Questo si Che è figo Mamma mia È stupendo Tutto rosso Vabbè abbiamo i pulsanti normali Come sempre però Con la X Il quadrato Il cerchio Il triangolo rosso Bello Fighissimo Rosso e bianco Molto figo Fino a qua Tutto a posto Ma andiamo a vedere Questa console Madonna Ma è rosa Ma è rosa Sembra rosa Eccola qua Eccola Amma che rumore Con tutto il suo splendore Console Pro Vision Ovviamente Esclusiva Migliardi di euro C'è ragno Vabbè Simbolo da P sopra Sotto Gommini Antiscivolo Simbolo X Cerchio triangolo Come solite console Fino adesso E basta Eccola 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 Qualche volta Forse lo lancio Forse lo porto di là Porti di là E niente Noi siete al prossimo video Mi raccomando Condividete pure il video Se vi va Scrivete nei commenti Che ne pensate di questa console A me piace un botto A te pure A te pure Quindi Noi siete al prossimo video E' una storia Bella Non hai un futuro da Youtube Capito Manco io Grazie.